Ciao amici, siamo in compagnia di Gaetano Puccino, il responsabile back office Prestiti personali, che oggi ci illustrerà la struttura e il funzionamento di quest'area. Innanzitutto, ciao Gaetano, ho sentito dire che tu sei una figura storica in Prestito Si, sei qui sin dagli inizi, giusto? Ciao Francesca e benvenuti a tutti. Sì esatto, posso con orgoglio definirmi una figura storica di Prestito Si. Sono da circa 14 anni nel settore del credito e sono qui sin dagli inizi, crescendo insieme all'azienda, condividendo di conseguenza anche gioie, dolori, valori, ma soprattutto i successi di tutti questi anni. L'azienda per me è davvero una seconda famiglia, in questi anni oltre a costruire il percorso professionale ho naturalmente starato delle relazioni di amicizia che vanno ben oltre il percorso lavorativo. Tutti insieme abbiamo affrontato delle sfide in questi anni, trasformandoli in criticità, in opportunità e soprattutto non ci siamo mai rubati sugli allori, anzi, ogni volta che raggiungevamo l'obiettivo che ci eravamo detessati, eravamo pronti a scalare un'altra cima e a raggiungere quindi un altro raguardo. Ciao a tutti, sono Carmela Rienzi, analista back office dei prestiti personali. Mi occupo principalmente di istruire le pratiche, mediante la profilazione del cliente, per poi collocarlo ai giusti partner bancari, in modo da offrire il miglior servizio possibile e garantire sicurezza, efficienza e professionalità. Gaetano, a questo punto ti faccio giusto un'ultima domanda. Perché un consulente del credito dovrebbe scegliere il prestito sì? Beh Francesca, innanzitutto per l'offerta multiprodotto e multipartner del prodotto. Parliamo di 40 accordi con i principali istituti bancari italiani. I nostri punti di forza sono i rapporti consolidati che abbiamo con i partner bancari e soprattutto la completa dedizione a favore della nostra rete collaborativa, punto che da sempre ci costantissigue. Le persone al centro per noi non è un semplice slogan e nello specifico come team back office per noi significa offrire un servizio di supporto ai nostri concluenti a 360 gradi per ottimizzare il loro lavoro e prevedere il risultato ottimale di singola pratica. Grazie mille Gaetano ci hai aperto davvero un mondo. È stato un piacere conoscere attraverso le tue parole il funzionamento del back office prestiti personali. Ma ora continuo il mio tour alla scoperta delle divisioni Motosi e Azienda Si. Ti saluto e soprattutto ti lascio al tuo lavoro. Grazie a te Francesca per la disponibilità. Buon proseguimento di tutti.